Dai rega bentornati in questo nuovo puntato sul canale della vostra Cicciuz Allora, aia, allora oggi non fateci caso alla mia acconciatura E' un acconciatura che ho fatto solamente oggi, non vado in giro così con questi frufru in testa Però volevo fare una cosa particolare Volevo provare a riempirmi queste bellissime codine di pallocini Per cui ci sarà tutto l'ambaradam e tutto trantram di gonfiare questi palloncini Ah, come faccio a gonfiliarli tutti Ce la farò, ce la farò, ce la farò Quindi ragazzi iniziamo ad aprire il pacchetto di palloncini Un, due, tre Ah! 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 Ops Mi sa che l'ho aperto un po' troppo, ma va bene lo stesso Si devono avere i palloncini Quindi cominciamo a gonfiare i palloncini Cioè, ma sapete cosa vuol dire avere cento pezzi di palloncini in testa? Cioè, fotonico! Mi è venuto in mente perché avevo fatto un video su TikTok Quando i palloncini in testa me ne ho messi pochi E allora ho detto, perché non farò un video su YouTube dove me ne metto cento di palloncini? Eh! Cominciamo! Piatto per ceci? Ok, piccoli che si direi che vanno bene Ancora più piccoli Ok Uno è andato Però serve a qualcosa per mettere dentro i palloncini, ragazzi Un'idea Prendiamo un bel sacco Apriamolo Ragazzi, dove siete? Yuhuuu Ragazzi, non riesco più a togliere Ragazzi Ok Ce l'ho fatta, mi sono salvata Mi sono salvata Ok Non dobbiamo far cento, ragazzi Ok Andiamo con il prossimo palloncino E siamo a due Tre Ci cominciamo bene, ragazzi Trac Ma dai Ma che palloncini sono questi? Ma mia, ragazzi Bisogna avere il fiato di un lupo E bisogna avere il fiato di un lupo Per fare Questo lavoro che sto facendo Ma c'è un buco in questo palloncino Bene Buono Acuccia Acuccia Bravo Ascolti la tua padrona Allora Ragazzi 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 Raga Non qui è Non sono sparito Sono qui ancora Niente raga Mi sa che dobbiamo cambiare il sacchetto Ho già capito Se lo lascio così Aperto qua È meglio Che è meglio non mancano tanti palloncini mancano pochi non devono mettere un po' di sapore di fragola sapore di fragola vicino a me non so se voi conoscete questa canzone ma è un po' vecchia è degli anni novanta? può essere? I don't know si sta sgonfiando un palloncino no non ho sentito male povero palloncino rega ho quasi finito eh no è finito là sopra no come faccio? prendo ragazzi è quasi finito mamma mia oh che fiato ma com'è possibile che anche questo è buco? ok altro palloncino è andato via 7 we are the champion we are the champion bene ragazzi ho completato tutti i palloncini adesso li devo mettere sui capelli cominciamo ad annodare i palloncini pensavo di farne 25 in una codina 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 ok altro lavoro ragazzi eh 20 ancora 5 25 vediamo com'è uscito adesso eh e non è finita qua ne ho altri tre da fare eh altri tre mazzi di palloncini 25 forza ragazzi sembra di essere nel deserto abbiate pietà dalla cecci eh andiamo avanti col terzo pacchetto di palloncini ma si cosa vuoi che si è ahahahahaha last one buonanotte ma io già ho caldo adesso in più devo indossare sti cosi in testa cioè dovrò indossare il costume per mettermi questo giaggio in testa se volete altri video di questo genere ragazzi arriviamo a 10.000 like così almeno la ceci può pensare e sbizzarrirsi su cosa fare ok? 10.000 like ho gonfiato 100 paloncini e li ho messi insieme e adesso ragazzi li devo attaccare sulla testa ora è arrivato il momento sacro che vadovamo tutti quello di vedere la ceci con tutti questi paloncini in testa voglio proprio vedermi sono troppo curiosa cominciamo col primo malloppo di palloncini attacchiamo a questa è uno non scoppiarti eh è due non mi sto guardando non mi sto vedendo ma posso immaginare tre l'ultimo l'ultimo dei tre malloppo di palloncini aspettate ragazzi mi piaccio? come sto? oh mio mi piaccio ragazzi guardate come sto eh posso anche squatterli Facciamo arrivare a questo video A 10.000 like Se volete altri video simili Di questo genere E ricordatevi di iscrivervi sul mio profilo TikTok e anche Instagram E ovviamente anche su Youtube Sempre C.C.Official E noi ci vediamo ragazzi Alla prossima puntata E Dai ragazzi Ciao